Il governo elettorale deve parlare, il Parlamento, hanno fatto questo decreto interpretativo che è successo per chi? Che cosa ci propinano? Che l'hanno fatto per garantire il diritto di voto a milioni di cittadini, ma chi glielo doveva garantire il diritto di voto ai cittadini? Quelli che dovevano presentare i diritti candidati dovevano essere consapevoli e competenti e mette in condizione tutti di votare per chi volete. Quei cittadini non sarebbero stati vivati nel diritto di voto, avrebbero potuto votare altre liste più competenti e più rispettose delle regole. Però ci raccontano la storia. Vedete, noi abbiamo fatto tanti convegni elettorali. Se a uno di noi fosse capitato un errore, di imporrere in un errore come quelli in cui sono capitati questi, non saremmo usciti per la vergogna, non saremmo usciti di casa per tutta la campagna elettorale. Perché un comportamento non è incompetente. Intanto questi incompetenti sono stati aiutati da papi, perché ormai papi non è solo il papi, delle azicezze, delle linee, delle... Sì, però non ci va a parlare. Quelle linee di capito come si chiama, non è il caso di chiamare con il proprio deputato. E quindi ci hanno gli assorti dell'Olimpici. La domanda dal passeggiare con la pesce, se fosse capitato a centro-sinistra il decreto interpretativo, sarete intervenuti? Ma sicuramente no. Vogliamo parlare dei vari casi di corruzione che si stanno verificando, non trà la sequenza negli ultimi anni? Quindi, vogliamo parlare dell'agenzia di Pertolaso? Chi sono i cattivi? Sono quelli che hanno inneggiato a telepoto dicendo magari ce ne fosse un all'anno, che si sono arricchiti, rompendo, rubati. No. I cattivi sono, in questo caso, le interpretazioni telefoniche che hanno consentito di scoprire la magatina. Certo di confusione. Fino a qualche anno fa chi sbagliava pagava. Era un fatto proprio educativo. Noi da chiunque di noi da ragazzini non sbagliamo. Inflazione, punizione, si equilibrava la situazione. E abbiamo preso i variatori, dopo quando eravamo piccoli, almeno la mia generazione. Noi, anche la vostra generazione, magari voi sono intervenuti dei genitori più democratici, proprio bagliatone non glielo facevano. Però, un cifo, una punizione, quindi la data, si sapeva, bagliata doveva avere una punizione. Adesso queste regole non valgono più. Vince chi ruba, chi prota, chi imbroglia. E quelli che rispettano le regole si sentono, diciamo, loro, si sentono messi in una categoria strana, che è quella di stupide, degli imbecilli. Chi l'ha detto, se ne sono stupide e imbecilli, incominciano a sentire di stupide e imbecilli. Però, devo dire la verità, mi cominciò pure a stupare di passare, taglio la persona buona, scambiano le persone, la volontà per l'appenaggine, la senetà per l'appenaggine. Io mi sono stupata di fare la figura dell'imbecilli e della stupida. E mi sono dita, quando mi hanno proposto la candidatura, che forse nel momento buono per uscire dalle categorie degli imbecilli. Perché due modi ci sono. O uno entra nella categoria dei dritti, però forse ci si nasce, non ci si diventa. Oppure ci si dispella. Con questa candidatura io ho cominciato per il caso di Zilli, di tornare a parlare ai miei concittadini di queste cose, di questi valori del suo essere.